50 milioni di euro ed un paio d'anni di lavori per realizzare una parte dei nuovi quartieri previsti dal piano urbanistico del comune di Salerno sulla litorale orientale. Al via Oggi il comparto 12 di via Fangarelli, uno dei più grandi, con un'area di trasformazioni di circa 40.000 m2, destinate in parti quasi uguali a residenze, spazi direzionali e commerciali. 80 le nuove abitazioni previste, 100 gli uffici, 100 i locali commerciali. Oltre 8.000 m2 saranno destinati al verde pubblico attrezzato e quasi lo stesso per i parcheggi, anche se il sindaco De Luca ha chiesto questa mattina ai costruttori di destinare più spazio alle aree di sosta. L'urbanizzazione secondaria porterà anche alla realizzazione di un auditorium, una mediateca ed una delegazione comunale. Nelle prossime settimane noi apriremo altri cantieri per il decollo di altri PUA, altri programmi urbanistici attuativi. Cresce la città del 2000, manteniamo tonificata l'economia della nostra città, riusciamo ad evitare con sforzi amministrativi anche enormi che ci sia una situazione di depressione economica a Salerno. La città rimane estremamente dinamica. De Luca ha anche sottolineato l'importanza della strada del subcomparto per evitare il blocco di tanti lavori. Abbiamo verificato che a volte piccoli proprietari di piccoli comparti assumevano posizioni di cattatori e bloccavano tutto l'intervento. Quindi abbiamo consentito di poter realizzare subcomparti, cioè un pezzo di comparto, nel quale i proprietari sono tutti d'accordo e sono disponibili ad investire. Tra i proprietari del suolo è anche Salerno Energia, che in cambio del suo impianto di metano per autotrazione, che sarà spostato a Torrione, otterrà una palazzina che sarà messa sul mercato. I progettisti della società Runa hanno previsto anche una serie di accorgimenti in chiave ambientale, con 2400 metri quadrati di tetti fotovoltaici, 600 con pannelli solari termici ed anche serbatoi sotterranei per recuperare l'acqua piovana. Particolare attenzione anche per l'arredo urbano, che prevede anche cabine per i cellulari. Ci siamo un po' divertiti, perché se nelle altre città hanno tolto le cabine urbane telefoniche, noi le rimettiamo e le rifunzionalizziamo rispetto anche ai tempi. Questa è una cabina con una seduta, ricorda un po' la cabina vecchia della SIP. Ci sarà una seduta, ci saranno prese per caricare il laptop o il cellulare, in modo che anche se uno ha delle conversazioni lunghe da fare, non da fastidio agli altri persone, parla e si può sedere comodamente qui e caricare il proprio cellulare e operare. Poi anche le postazioni wifi abbiamo progettato, la seduta ricorda un po' il simbolo del wifi, quindi le tre ondine saranno tutte molto colorate.